Il primo titolo memoria di Davide, forza il giro a un ragazzo, uno per tocca, forza ragazzo. Facciamo un applauso ragazzi, forza! Porta a mano sul piano! Allora, i ragazzi del prima calcio, con tutta la società, hanno donato alla Massimo Nuana il profeo di postante. Grazie. Allora ragazzi, ci vediamo l'anno prossimo per la religione. L'anno prossimo, li mettete in paglio il titolo e speriamo che facciamo una cosa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.